Non appuntamento del mondiale di Formula 1 2021, doppio appuntamento in Austria e ancora una volta si è ripetuto il copione di settimana scorsa, ancora una volta la Red Bull è dominante, in particolare con l'orlandese Max Verstappen che vince la terza vittoria di fila e fa il primo a lungo decisivo quantomeno per la corsa al titolo del mondo. Sono adesso 32 i punti di distacco da Louis Hamilton, oggi veramente impalpabile ma adesso ci addentriamo in questo recent podcast che per voi sarà del giorno dopo, voi lo vedrete lunedì alle 14. Partiamo comunque dall'inizio per una volta perché la gara è stata divertente sì ma per le posizioni di rincalzo che assegnavano i punti e su alcuni episodi che hanno effettivamente dato addito ad alcuni punti di competere per il podio. Vedi per esempio un Lando Norris suntuoso che fa contento me, che sono tifoso della McLaren ma anche gli appassionati per una partenza sprint che ha capitalizzato dopo una qualificazione ottima in seconda posizione. Verstappen era letteralmente imbattibile e Norris è ritrovato a fare la bagarre con le due Mercedes veramente anonime anche in qualificazioni, soprattutto con Louis Hamilton e con Perez che comunque era finito terzo dopo le prove del sabato. Il problema è che Norris e Perez come vediamo da questo piccolo frame vengono in contatto di fatto subito nei primi giri di gara, Norris viene diciamo coinvolto in questo tentativo di sorpasso di Perez all'esterno dopo curva 4, un punto veramente impossibile dove effettivamente starci in due, Perez finisce letteralmente per le terre per questa manovra a Norris vengono combinati 5 secondi di penalità. È una penalità a mio modo di vedere in realtà esagerata perché poi dall'on board si vedrà molto bene che Norris non andrà a accompagnare letteralmente Perez fuori dalla pista, è semplicemente un punto come dicevo in precedenza dove si fa molta fatica a superare, soprattutto a starci in due, Perez finisce fuori, verrà ovviamente accolto poi il ricorso della Red Bull e Perez appunto verrà appunto come dire aiutato dalla penalità di Norris di 5 secondi. Perez il problema è che appunto si ritroverà coinvolto in altri incidenti e verrà penalizzato per più volte, in particolare perché c'è stato un duello rusticano mi verrebbe da dire con il ferrarista Charles Leclerc per una Ferrari che come vedremo alla fine si risolleverà. Se la penalità di Norris è stata esagerata per avere praticamente accompagnato Perez con una manovra inesistente in realtà fuori dalla pista, Perez viene giustamente penalizzato due volte di 5 secondi per aver letteralmente accompagnato due volte Leclerc fuori dalla pista. A differenza però della manovra di Lando Norris c'è contatto tra le due vetture della Red Bull e della Ferrari, Perez si vede effettivamente che dà una ruotata alle Leclerc per sbattere letteralmente per le terre e giustamente il messicano verrà penalizzato per la gioia comunque dei tifosi della Ferrari che comunque possono diciamo essere molto contenti della gara della rossa. Perché effettivamente come vedremo poi dal tabellino della gara di oggi le Ferrari hanno capitalizzato malissimo il sabato in prova ma hanno evidentemente sfruttato un assetto vincente in gara per rimontare e finire in posizioni molto interessanti soprattutto con Carlos Sainz. La bagara effettivamente c'è stata poi dietro per queste posizioni perché alla fine poi sia Hamilton che Norris che anche Bottas che soprattutto Verstappen sono andati veramente a fare un altro sport. Non siamo arrivati ai livelli di settimana scorsa dove effettivamente anche il quinto è stato doppiato, è stato doppiato se non sbaglio dall'ottavo pilota in giù ma la solfa non cambia perché Max Verstappen domina e vince ancora una volta il Gran Premio di casa. Nel doppio appuntamento di fatto Verstappen capite da 50 punti e allunga come dicevo all'introduzione di questo video a più 32 punti su un Lewis Hamilton che è finito mestamente quarto peraltro subendo a sua volta l'ordine di scuderia della Mercedes che ha fatto passare un valteribotta a 6 anni di Lewis Hamilton che era veramente in realtà più in pari al pilota inglese al netto che appunto Hamilton aveva dei problemi sulla sua vettura e non era performante al 100%. Fatto sta che con i risultati che sono maturati nella gara di oggi in Styria abbiamo la terza vittoria consecutiva di Max Verstappen, 182 punti per il pilota olandese e la quindicesima vittoria della carriera per Verstappen e dunque ancora una volta suona Helt Wilhelmus. Questo momento d'oro evidentemente per la Red Bull che capitalizza la quinta vittoria di fila tra Monaco e Austria 2, in mezzo c'è anche la vittoria di Perez in Azerbaijan, non sembra il momento di Lewis Hamilton che aveva capitalizzato al massimo le prime quattro gare, poi nel successivo 5 ci ha capito veramente poco. Anche oggi il pilota inglese ha finito veramente in colore, quarto addirittura ai piedi del podio, sfruttando anche una macchina inferiore rispetto a queste Red Bull che pare la Mercedes dell'anno scorso e Verstappen pare l'Hamilton dell'anno scorso. Hamilton poi è stato anche beccato dalla regenta nazionale della gara in errori anche abbastanza banali, per esempio con bloccaggi a curva 1, insomma una mezza delusione. Oggi Lewis Hamilton soprattutto che si trova adesso in una posizione di rincorsa e come vedete evidentemente se avessimo visto un Hamilton vincente a Baku il distacco sarebbe stato logicamente inferiore, ma ovviamente a Baku sappiamo com'è finita, cioè 2-0 per entrambi i contender principali al campionato e invece qui appunto ci troviamo a 32 punti di distacco tra Verstappen e Hamilton che di fatto è una vittoria e passa di distacco. Ok che ci saranno delle gare sprint nel corso di questo campionato che assegnano dei punti lo stesso, ma dimezzati, ma al netto della grossa cagata che mi sembra la gara sprint bisogna tenere in conto anche di quello. Certo è che 32 punti è un distacco evidentemente considerevole che comunque non dà per molto morto Lewis Hamilton ma può comunque significare un primo a lungo decisivo quasi al giro di bolla del mondiale perché siamo alla nonna gara su addirittura 23 previste considerato che poi è ritornata a Turchia in calendario. Completiamo il podio, abbiamo detto Valtteri Bottas si risolleva e fa una seconda posizione molto interessante, una seconda posizione più convincente in realtà della terza della gara scorsa perché la gara scorsa di fatto Bottas ha preso la posizione involata su Perez, qui invece sembrava l'unica Mercedes effettivamente più in palla, netto Hamilton appunto aveva dei problemi. Bottas comunque fa secondo, secondo podio consecutivo, quinto della stagione eppure probabilmente la Mercedes non gli rinnoverà il contratto, si dice che finalmente possa arrivare George Russell in Mercedes. Oggi peraltro Russell ha fatto una gara un po' al di sotto della qualificazione ma c'era un po' da aspettare, solo comunque buona gara per il podio inglese, undicesimo ai margini della zona punti. Completo il podio, il mio pilota del giorno, il mio MVP di giornata, ok che io sono tifoso della McLaren ma Landon Norris ragazzi ha fatto una gara veramente della madonna, una gara veramente da pilota con tanto talento da vendere e che dimostra ancora una volta di essere il primo degli umani di fatto. Perché dopo i big three, perché Bottas in questo momento non è uno dei big della disciplina, si piazza sempre a ridosso delle posizioni che sono di solito occupate dal due Mercedes e dal due Red Bull e quando può ha l'occasione per fare dei podi. E' addirittura il terzo podio stagionale per il pilota inglese, ha peraltro subito la penna dei 5 secondi scontata ai box e dunque si è meritato effettivamente in pista la posizione culminata poi col sorpasso su quell' Hamilton non irresistibile appunto di Austria 2. Sono 101 i punti per Norris che addirittura a meno 3 da una straordinaria terza posizione, ok ripeto io sono tifoso della McLaren dai tempi di Mick Hachinen però questo pilota veramente mi fa gioire e mi fa constacrarlo come mio personale pilota del giorno. Gli altri piazzamenti per quanto riguarda la top 10, una bella Ferrari piazza Carlos Sainz in quinta posizione, Carlos Sainz sempre più in crescita con questa Ferrari ed è da Monaco effettivamente che si è visto il miglioramento del pilota spaziale. Peccato la gara del Porricar ma lì la Ferrari ha fatto oggettivamente tanta tanta fatica ed è finita after the music, qui invece la Ferrari convince per quello che poteva convincere, l'obiettivo era essere la terza macchina in pista e di fatto ci siamo quasi. Annetto che oggi Norris ha fatto veramente una straordinaria gara. Sesta posizione per Sergio Perez che ne ha combinate di tutto e di più perché ha preso due penalizzazioni corrette a mio modo di vedere e infatti anche lui finisce sesto. Perez effettivamente è una delusione secondo me di questo Gran Premio perché con due Red Bull che partivano prima e terza non vederle due sul podio secondo me fa un po' storcere il naso alle mie valutazioni sulla gara di oggi del pilota messicano. che oggi secondo me è da 5 e mezzo in pagella essere buoni da 4 se vogliamo essere proprio lapidari perché due penalità giuste e finalmente conclusione della gara after the music per lui. effettivamente lo mettono come serio candidato alla mia personale delusione del giorno. Settima posizione è per Daniel Ricciardo a testimonianza che comunque la McLaren sta crescendo. Certo Ricciardo potrebbe avere problemi un po' psicologici in questo momento perché prende la paga sistematicamente da Lando Norris ma Lando Norris ricorda non è un pilota qualunque almeno a mio modo di vedere. Ottavo Charles Leclerc che fa una gara comunque interessante perché l'abbiamo visto coinvolto nei duelli con Perez ci ha regalato tanto spettacolo in staccate un po' forzate che momenti riuscivano insomma. era una gara che evidentemente si prestava alle rimonte del Monegasco che sono state di fatto completate in parte. Ottava posizione comunque e qualche punto per Charles. Nonna posizione per Pierre Gasly che di fatto a sto giro la gara la corre tutta visto che l'altro giorno l'hanno cilindrato al primo giro e di fatto non l'abbiamo visto. Peraltro in quel caso fu colpa di Leclerc e chiude la zona punti Fernando Alonso in una gara che peraltro toglie dalla zona punti George Russell che fosse finito decimo l'avrebbe consacrato a mio straordinario MVP della gara dell'Austria. Parentesi su Antonio Giovinazzi che è dovuto rientrare al primo giro per di fatto un contatto che l'ha visto protagonista. Alla fine è finito ancora una volta nei migliori 15. Quattro decennia posizione per il pilota pugliese e rimane ancora una volta l'ultimo punteggiato del campionato mondiale davanti ovviamente a quelle macchine più o meno inguardabili che sono Williams Mercedes e Haas Ferrari. Adesso la Formula 1 si fermerà per una settimana, tornerà a Silverstone al weekend del 18 luglio e ci sarà la prima gara sprint della storia che assegnerà di fatto i punti della qualificazione obiettivamente ridotti per la gara della domenica. La griglia è un po' simile a quello che succede in Superbike con una differenza che in Superbike la griglia viene data dalla qualificazione del sabato mattina mentre per la qualificazione alla gara del sabato ovviamente verrà abolita e ci sarà la griglia di partenza con il combinato del libere del venerdì per dare punti ridotti visto che la gara sarà ridotta di soltanto 100 km. Non la trovo l'idea del secolo, anzi sono abbastanza contrario. Piuttosto se dobbiamo inserire un'idea nuova sarebbe meglio inserirla dall'inizio alla fine di una stagione non metterla a gare spot così a caso tanto per aumentare l'audience in piste magari più spettacolare rispetto ad altre quindi o si mette in 23 gare su 23 oppure non si mette da nessuna parte anche perché presumo che la gara sprint dal mio punto di vista verrà abolita già nei prossimi anni a meno che non sia la più grande generata della storia dell'umanità della Formula 1 ma ne dubito fortemente comunque staremo a vedere e faremo anche un breve commento nel video della domenica ovviamente dopo ovviamente il racing podcast a caldo della gara della domenica che è quella che effettivamente conta di più per l'assenza dei ditori del mondo con appunto Verstappen a più 32 su Lewis Hamilton. Non c'era soltanto però la Formula 1 a differenza della gara scorsa abbiamo avuto anche un'altra categoria di supporto ovvero la Formula 3 che anche qui consacra il proprio leader che è il norvegese Dennis Hauger pilota del team Prema uno dei team più vincenti della categoria è un trionfo diciamo per le squadre italiane perché in due gare su tre vincono i nostri team portacolore nella prima gara Prema con Dennis Hauger che fa una gara straordinaria ragazzi rimonta dalla dodicesima posizione e va a vincere addirittura sfruttando una gestione delle gomme incredibile per lui suona il suo inno nazionale inno norvegese che ricordo tradotto dal norvegese è sì noi abbiamo questo paese il podio lo completano Holly Caldwell dunque è doppietta per il team Prema con il terzo pilota di fatto della formazione italiana e podio per Jack Doan che appunto va a bissare la diciamo posizione sul podio per quanto riguarda la sua carriera in Formula 3 a Porricarfo una vittoria qui invece è terza posizione una gara quella successiva che poi fa ulteriormente la storia perché vince l'ennesimo figlio d'arte di queste categorie vince David Schumacher che è il figlio di Ralf e di conseguenza è cugino di Mick che sta correndo al momento in Formula 1 con la Haas ed era il campione regnante di Formula 2 2020 prima vittoria per David Schumacher che sfrutta peraltro una marea di penalizzazioni che sono fioccate da direzione gara per quanto riguarda la gara 1 ben 11 piloti su 30 previsti sono stati penalizzati di conseguenza la griglia considerato che c'è l'inversione delle prime 12 posizioni in Formula 3 è stata rimescolata ulteriormente David Schumacher comunque ha fatto flag to flag e vince di fatto dominando la gara 2 davanti a Fredrik Vesti e allo stesso Dennis Hauger due dei piloti più in palla di questo campionato Formula 3 per David Schumacher suona l'inno nazionale tedesco che è il canto dei tedeschi suona il canto nazionale danese invece per Fredrik Vesti pilota del Mercedes Junior Team che fa una gara che lo risolleva effettivamente alla rincorsa Dennis Hauger che facendo però tre podi su tre gare effettivamente ha dato la lunga decisiva quello che può essere un campionato di Formula 3 molto condensato ma altamente spettacolare Hauger però sembra aver avuto in questo weekend austriaco una marcia in più rispetto a tutti fa secondo anche in gara 3 e terzo ancora una volta Olly Caldwell altro pilota che ha fatto veramente una gran bella gara in questo weekend parentesi sui due piloti italiani partendo dal peggiore purtroppo Lorenzo Colombo che comunque è andato via via migliorando nelle tre gare austriaco dalla 25esima posizione passando alla 19esima e alla 13esima in gara 3 poco vicino alla zona punti Lorenzo Colombo invece Matteo Nannini ha fatto delle gare interessanti al netto del piazzamento il culmine è il quinto posto straordinario secondo me di gara 3 del Red Bull Ring peccato per la 12esima posizione in gara 2 e ancora più peccato per la 23esima in gara 1 perché Nannini è stato uno dei piloti penalizzati dalle a direzione gara per avere ceduto i limiti della pista più volte per aver combinato veramente un po' di tutto in realtà in pista alla fine era arrivato nella top 10 facile Matteo Nannini e purtroppo per il video di penetrazione è finito addirittura 23esimo partendo dal fondo appunto in quella posizione in gara 2 arrivando 12esimo quindi comunque delle belle gare per l'imperatore Romagnolo che lo vedremo all'opera in Ungheria così come tutta la Formula 3 mentre a Silverstone tornerà la Formula 2 dopo la gara di Baku che ha regalato comunque anche lì tante emozioni così come appunto la Formula 1 che appunto tornerà tra due settimane il 18 luglio e lì il 18 luglio ci sarà il video letteralmente a caldo alle ore 19 come al solito e non al giorno dopo come oggi, quindi alle ore 14 in ogni caso fatemi sapere cosa ne pensate del Racing Podcast di oggi che è la vostra pilota del giorno che è il vostro pilota del giorno e se secondo voi Verstappen ha fatto al lungo decisivo per un eventuale titolo del mondo in ogni caso spero che il video vi abbia intrattenuto al meglio il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video